Lo scontro diretto tra Conflenti e Marca va agli ospiti cosentini per 2 a 1 che guadagnano la prima posizione assoluta in testa alla classifica staccando di tre punti proprio il Conflenti Conflenti che viene raggiunto al secondo posto dal Belvedere che va a vincere a Maida per 2 a 1 Si ferma sul pareggio invece il Mach 3 che viene raggiunto dall'Escalibur e qui dovrebbe chiudersi la zona playoff attualmente anche se ricordiamolo mancano ancora 3 partite e potrebbero farci un pensierino Giri Falco e Longobardi, sono molti i punti di distacco, sono ben 13 dalle seconde e terze posizioni e quindi dovrebbero accorciare per evitare i 10 punti di distacco e quindi poter sperare di giocarsi un playoff Ricordiamo che in terza categoria i playoff come in tutte le altre sono due però ci sono soltanto le semifinali perché le due vincitrici sarebbero ammesse direttamente alla campionato di seconda categoria Per il momento Marca e Conflenti a Belvedere dovrebbero essere quasi al sicuro se poi bisognerà vedere se resteranno direttamente e andranno direttamente oppure attraverso i playoff Grazie a tutti 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 Grazie a tutti